dal fondo in favore dei padroni di casa. Arriviamo al tredicesimo, sempre della ripresa, c'è Fiaschi che recupera la palla, c'è D'Ilari, Ilari per Re, Re apre per D'Agostino, D'Agostino di prima per Fiaschi, Fiaschi si invola solo davanti al portiere, salta Piraccini e di destra appoggia in fondo al sacco. Una spettacolare rete realizzata da Fiaschi che ha suscitato gli applausi del pubblico di Martina Franca, un'azione tutta di prima, sinceramente difficile da vedere sui campi di rieci.